non ha alzato la bandierina peccato Corsino di petto per attenzione cerchia per Mancoso paglia di ritorno per lui cerchia il portiere fa davvero un altro miracolo salva la porta per la seconda volta Nicastro porta il nome dell'ex città che fa la mezza insieme a San Belzio e Santa Fenia il portiere Nicastro salvato la porta con questo tuffo sulla destra attraversone sul primo palo basso e cerchia che ha fatto prima il diagonale Nicastro si è superato in calcio d'angolo buonasia per Visone che prova la profondità subito il lancio in area di rigore viene fermato da Esposito prova la ripartenza Le Bolitana ottimo tempo di cattare